Storia di Iqbal, capitolo 10 Sono arrivato in città, ci raccontò Iqbal, che cominciava appena ad albeggiare. Il cielo era grigio, pioveva, c'erano grandi pozzanghere dappertutto e non sapevo dove andare. Per un po' oggi ero vagato a caso. Ci sono quartieri dove tutti i palazzi sono altissimi da non riuscire a distinguerli e quartieri di vecchie case che cadono a pezzi, ammassate una sull'altra e ancora non c'era in giro quasi nessuno perché era troppo presto. Ad un certo punto ho incontrato una strada molto larga e lunga che usciva dalla città e ho pensato, forse da qui arrivo a casa, in campagna, dai miei. Potevo nascondermi e tentare di salire su di un camio o su di un autobus, in qualche modo. Stavo per farlo. Poi ho pensato che sicuramente Usain Khan sarebbe venuto a cercarmi a casa dei miei genitori e li avrebbe obbligati a riconsegnarmi a lui. Mamma di certo si sarebbe opposta, ma papà è un uomo giusto, rispettoso della legge e siccome ha il debito non avrebbe potuto dire di no. Così ho cercato la piazza del mercato. È grandissima, sapete? Neanche potete immaginare quanto. Ci sono centinaia di banchi di legno, uno accanto all'altro e cassette impilate e stuoie dove ognuno espone la sua merce e nonostante la pioggia i commercianti erano già al lavoro. Montagne di frutta, camion di verdure che arrivano dalla provincia, ceste di spezie di tutti i colori, protette da teli di plastica. Poi ci sono i banchi dei macellai che per difendere la carne dalle mosche usano strisce di carta appiccicosa e quelli che semplicemente appoggiano la loro mercanzia per terra e vendono di tutto, cose vecchie e strane, anche chiodi storti e arrugginiti. Ma va, ti dico, non so chi glieli compra e poi ci sono dei banchi che sembrano dei veri e propri negozi e hanno delle grandi radio e delle cassette che metti dentro e senti la musica. Lo so, disse Karim con aria vissuta e delle altre cassette che, dicono, si vedono le immagini. Questo non lo so, ammise Karim. Ho girato per ore. C'era sempre più gente in giro e sempre più confusione. Ho pensato che se mi confondevo tra la folla era più difficile che Usain Khan potesse trovarmi. C'erano anche gli spettacoli. Ho visto un giocogliere e un incantatore di serpenti. Non ci sono gli incantatori di serpenti. Sì, invece. E il serpente ballava il suono della musica? Non proprio. Ma è uscito dalla cesta. Era un grosso serpente con il muso largo e lo sguardo cattivo e lui l'ha preso con le mani. A mani nude? Sì, proprio. E dappertutto c'era chi vendeva roba da mangiare. Padelloni per friggere le samosa e le shami kebab. Sapete, le frittelle di lenticchie montone. Pentoloni di riso basmati e di pollo tandori. Spiedini di carne e verdure alla griglia. Un profumino. E io ero affamato. E tu come hai fatto? Ho lavorato. Ce n'è anche lì, sapete? Che cosa? Di bambini che lavorano. In tutto il mercato sono loro che scaricano i camion e trasportano cassette. Alcune così pesanti che ti spezzano le braccia. Tu vai da un mercante e gli dici Hai del lavoro per me, bambino? E lui ti dice Spostami quel carico e ti darò una rupia. Ho fatto così anch'io. Ma c'erano degli altri bambini che non volevano che lavorassi. Mi dicevano Va via tu, chi sei? Da dove vieni? Questo posto è nostro. Il lavoro è nostro. Avevo paura che richiamassero l'attenzione su di me. Di sicuro Usain Khan era in giro a cercarmi. Così gli rispondevo Lasciatemi stare voi E tentavo altrove. Alla fine ho trovato un macellaio che mi ha fatto scaricare Un intero camion di quarti di montone. Mi ha dato un sacco da mettere sulla testa e sulle spalle Per non sporcarmi di sangue. E a me andava bene Perché sotto il sacco Usain non sarebbe mai riuscito a riconoscermi. A un certo punto mi è anche sembrato di vederlo tra la folla. Ma tu cosa pensavi di fare? Non lo sapevo. Pensavo di nascondermi qualche giorno lì al mercato E poi qualcosa avrei trovato. Ho lavorato fino a pomeriggio avanzato. Ho mangiato con la rupia del macellaio. Aveva smesso di piovere Stavo uscendo un pallido sole. Mi sono seduto contro un muro a riposare. Si sono avvicinati altri due ragazzi più grandi. Fumavano sigarette e parlavano in modo strano. Sei nuovo? Mi hanno chiesto. Sì. Da dove vieni? Dalla campagna. Ho mentito. Cerchi lavoro? Se sei svelto abbiamo noi qualcosa da farti fare. E cosa ti hanno proposto? Non ho capito bene. Ma avevano un coltello. Me l'hanno fatto vedere. Io gli ho detto No, grazie. Insistevano. Gli ho chiesto Sapete dove posso dormire? Si sono messi a ridere. Qui? Dove vuoi? Ogni banco di notte diventa una camera d'albergo. Ma sta attento, pivellino. Perché? Ho chiesto. Sta attento. Erano riusciti a mettermi paura. Mi sentivo solo. Non sapevo cosa fare, dove andare. Mi mancavate voi. Ho pensato, scappare è stata un'altra sciocchezza. Il mercato si stava svuotando. Calava la sera. Mi ha preso la malinconia, la nostalgia di casa. Ero scappato pensando che qualcuno avrebbe aiutato me e tutti voi. E invece ero solo. Che cosa hai fatto allora? Ho visto arrivare un autobus. Di quelli grandi, colorati, pieni di luci e di trombe. Ti ricordi, Fatima? Che ti avevo detto quanto mi sarebbe piaciuto prenderne uno? Mi ricordo. Così sono salito. E mi ha portato in giro per la città, fino a quando il controllore mi ha visto e mi ha obbligato a scendere, coprendomi di improperi. Poi ne ho preso un altro e un altro ancora. L'ultimo mi ha lasciato in una zona sconosciuta. Era quasi notte e avevo di nuovo fame. Il piacere della corsa era finito. Ho trovato un androne riparato e mi sono addormentato, stringendomi tutto per non sentire il vento. Al mattino il portinaio mi ha cacciato a bastonate. Ho ritrovato il mercato. Ho scaricato due camion di cocomeri, sempre guardandomi in giro per timore di vedere apparire Usain Khan. Resterò qui qualche giorno, pensavo. Forse il padrone si stancherà di cercarmi e poi potrò tornare a casa. Ma non ero sicuro. Temevo di dover sempre vivere là, come un randaggio. Poi nel pomeriggio sono arrivati quegli uomini. Quali uomini? Sono arrivati in gruppo. C'era anche qualche donna. Hanno montato una specie di palco e dietro hanno steso uno striscione e tanti cartelli. Naturalmente non so cosa c'era scritto. Si è subito radunata una grande folla. E' arrivata anche la polizia e si è schierata tutta attorno a loro. Per aiutarli, ho pensato io. Sul palco è salito un uomo. Appena l'ho visto mi è piaciuto, non so perché. E' un uomo buono, senz'altro. Ha una bella barba punta, curata e una camicia bianca, pulita. Si è messo a parlare in un microfono. E cosa diceva? Diceva, me le ricordo bene le sue parole, perché parole così non le avevo mai sentite. Diceva, noi siamo del fronte per la liberazione del lavoro minorile. E che cos'è? Non lo so. Ma diceva che è una vergogna e una barbarie che i bambini siano sfruttati e costretti a lavorare come schiavi. Incatenati al telaio o nelle fornaci di mattoni. Diceva che i padroni sono avidi e privi di scrupoli. Diceva così, sei sicuro? Sono sicuro. E poi diceva che adesso c'è una legge anche in Pakistan. E che chi sfrutta i bambini deve andare in prigione e altre cose così. Giusto, giusto. Sì, ma la maggior parte della gente attorno non la pensava così. I mercanti gridavano insulti e gli tiravano verdura per farlo smettere. Gli dicevano, vai via buffone, traditore. Ma lui riusciva a gridare più forte di loro e non si lasciava intimorire. Ma dovevate vederli? I commercianti di tappeti erano i più feroci di tutti. Sembrava che volessero assalire il palco. Dicevano, sono menzogne, sono solo bugie. Io ho pensato, questo è l'uomo che può aiutare me e i miei amici. Ho cercato di avvicinarmi al palco per parlargli, ma la calca era troppo fitta. E poi il palco era circondato dalla polizia. Allora ho pensato, posso dirlo a un poliziotto. La polizia è qua per aiutarli. Quell'uomo ha detto che c'è una legge. Mi sono rivolto al poliziotto più vicino. Quell'uomo ha ragione, gli ho detto. Io e i miei amici siamo tenuti schiavi da un mercante di tappeti. E tu come mai sei qui? Mi ha chiesto lui. Sono scappato, gli ho risposto. E come si chiama il tuo padrone? Usain Khan, signore, gli ho detto. Lui si è guardato attorno. Vieni con me, mi ha detto. Dove? Non avere paura. In caserma da noi ti daremo da mangiare. E domattina andremo a trovare questo Usain. Lo metterete in prigione? Ho chiesto. Sappiamo noi cosa dobbiamo fare. In caserma sono stati gentili. Mi hanno dato una ciotola di riso. Mi hanno fatto dormire nella branda di una cella. Ma non ero prigioniero. Se volevo uscivo. Così hanno detto. Il mattino dopo lo sapete anche voi cosa è successo. Usain gli ha detto che siamo lavoranti. Che siamo tutti regolarmente pagati. Che non ci sono catene. E loro gli hanno creduto. Non gli hanno creduto, spiegai. Hanno preso dei soldi. L'ho visto io. Ci guardammo sconsolati. Eravamo radunati attorno alla branda di Iqbal. Lui era ancora pallido e debole e sembrava che anche parlare gli costasse uno sforzo. Ma se non possiamo fidarci neanche della polizia, chiese interpretando il pensiero di tutti, chi mai ci potrà aiutare? Gli uomini del fronte di liberazione, rispose Iqbal. Loro ci aiuteranno. Forse, ma come facciamo a trovarli? Iqbal fece un sorriso furbo. Infilò la mano nella tasca dei pantaloni e ne strasse un foglio di carta. Che cos'è? Chiedemmo tutti. Lo distribuivano loro. Di sicuro c'è scritto anche come si fa a trovarli. Il foglio girò di mano in mano. Lo toccammo e lo guardammo, perplessi. Sì, fratello, disse infine Salman. Tu avrai anche ragione, ma dimentichi una cosa. Nessuno di noi sa leggere. Lungo silenzio. Poi, una voce alle nostre spalle. Una voce che non avevamo mai sentito prima. Una voce strana, come arrugginita, disse Non è vero. Io so leggere. Ci girammo tutti a guardare Maria, a bocca aperta, come degli allocchi.